Dopo anni di attivismo e di impegno nel territorio ho ascoltato le istanze e le difficoltà dei commercianti, degli artigiani, degli imprenditori, dei disoccupati e ritengo di poter essere in grado di portare queste istanze e queste necessità e queste difficoltà all'interno dell'Assemblea regionale siciliana. Per la prima volta il Movimento 5 Stelle può essere forza di governo in una regione, quindi può essere in grado di legiferare e per la prima volta Favara può avere un deputato del Movimento 5 Stelle. Abbiamo, a differenza degli altri che ancora non l'hanno presentato e non l'hanno nemmeno enunciato, un programma serio di governo. Uno dei primi punti sarà il taglio dei vitalizi, l'abolizione dei vitalizi e il taglio degli stipendi dei parlamentari. Ovviamente non si risolve nulla col taglio degli stipendi, però si dà un forte segnale di discontinuità. Una casalinga con 500 euro al mese riesce a malapena sbarcare all'unario, quindi il deputato con il taglio degli stipendi mi si passa il termine. Si deve porre ai livelli di chi non ce la fa, non ce la fa ad arrivare alla fine del mese, come gli operai, come gli impiegati stessi, come i disoccupati. Quindi questo forte segnale di discontinuità serve appunto a far capire a chi leggifera quali sono le vere difficoltà dei cittadini. Quindi a leggiferare in tal senso. Questa volta il 5 novembre non rappresenterà soltanto un'elezione regionale, non è un'elezione regionale, ma è un referendum. Il referendum tra chi ha centrodestra e centrosinistra ha messo letteralmente in ginocchio la regione siciliana. E chi invece non ha mai governato si pone come una forza seria di governo in grado veramente di cambiare le cose. Quindi il 5 novembre basta scegliere o gli autori del disastro totale o il Movimento 5 Stelle. A voi la scelta.